Allora, Matteo Brunori, hai fatto 13? Sì, sono contento di aver raggiunto 13 gol e più che altro per aver raggiunto con la squadra il quarto posto e ce lo siamo veramente meritato con il lavoro durante l'anno e ora ci giochiamo questi playoff Ovviamente non ti devi fermare a 13, tanto il totocalcio non c'è più No, no, appunto, non mi piaceva neanche quello che mi hai detto però spero di dare continuità alle prestazioni e giocare per la squadra Che partita è stata oggi con la Fisto Yes? Sicuramente è una partita non facile perché loro comunque hanno giocato la loro partita noi eravamo tra virgolette obbligati a vincere quindi non è mai facile quando affronti queste partite Siamo stati bravi ad affrontarla con la testa giusta, con il carattere e quando ci sono queste componenti sicuramente i risultati arrivano